però fate vedere chi vuole il gadget ecco la mano, eccolo venite anche più vicino perché se no non arrivano che c'è il vento c'è il vento, c'è il vento venite più vicino che c'è il vento va bene, c'è così, c'è così, vediamo con il vento dove arriva questo ricordiamo che siamo Gadget, il video club di Livigno quindi se pensate di fare un giro a Livigno venite a trovarci tutte le sere, tutte le notti noi siamo il video club le nostre ragazze sono il video club al paro ho trovato pure il video club anche il fotologico purtroppo è il video club